Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Teseo. In questo breve video vedremo assieme l'andamento di mercato di mais e soia. Le quotazioni di luglio evidenziano che il costo indicativo dell'alimentazione bovina è il leggero rialzo, invertendo il trend dei due mesi precedenti. Il prezzo del mais nazionale, driver per la componente energetica della reazione, segue un trend in graduale aumento e la media delle quotazioni di Milano in luglio è di 183 euro a tonnellata. Il prezzo della farina di soia, driver per la componente proteica della reazione, mostra una tendenza negativa e la media delle quotazioni di Milano in luglio è di 332 euro a tonnellata. La produzione di mais in UE, settembre 2019-agosto 2020, si dovrebbe chiudere con un aumento del più 3,6% secondo le stime Usta. Il trend in crescita si dovrebbe ripetere anche per la prossima stagione. Nell'Unione Europea, l'aumento produttivo di mais nella stagione in corso, unito ad un minore utilizzo nel campo zootecnico, si è riflesso in una riduzione dell'import e un aumento delle esportazioni. Le esportazioni UE, infatti, nel periodo gennaio-maggio hanno registrato un più 62,2%, per un totale di 2,68 milioni di tonnellate. Le principali destinazioni sono state Egitto, Turchia ed Iran. Situazione differente per la soia, dove a fronte di un calo dell'export europeo, l'import torna ad essere positivo per il periodo gennaio-maggio, registrando nel mese di maggio una variazione del più 35%. L'Italia, importatrice netta di mais e soia, nei primi quattro mesi del 2020 ha registrato una diminuzione nell'importazione di questi due prodotti agricoli, rispettivamente meno 5,4% per il mais e meno 0,7% per la soia. Grazie per averci seguito, vi consiglio di registrarvi ai siti clal.it e teseo.clal.it per rimanere sempre aggiornati sui mercati del latte, agricolo e suinicolo. Arrivederci da Michele Badolato e dal team di CLAA.